Sei il bello dalla me, tu puoi far capire che da ragazzo, ti credo normale che sei, che niente di speciale, niente di più, si può rinascere semplicemente, portale in alto queste cose, perché rappresenti un mondo, portale in alto, non tende a fare delle cose pettinate, facciamo parte degli ultimi, ricorda, ok? In una situazione come la mia o in una situazione come la sua, vai a finire in una parte, in una parte diciamo di mondo, un po' esclusa, un po' quasi che sembra un po' dimenticata, ma non perché dimenticata dagli altri, perché dimenticata da te stesso. Lui mi capisce, con le sue parole riesce a tranquillizzarmi, cioè sa cosa dirmi, sa come prendermi. Sì, ok? C'è una missione bella. Grazie, non te lo dimenticare, ricordalo sempre dalla parte degli ultimi. Io ragazzi veramente vi dico che dico grazie agli ultimi perché siete in grado di regalarci degli insegnamenti veramente meravigliosi di vita. Grazie. 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 Grazie.